Forse dopo 30 minuti Forse dopo 13 anni inizieranno i lavori di escavazione del fiume Mazzaro, dopo 13 anni. Ma il problema non è tanto l'inizio dei lavori, quanto la fine degli stessi, perché ricordo a me stesso e a coloro che ci ascoltano che noi avevamo stanziato e personalmente me ne ero occupato 2 milioni e 200 mila euro come primo stralcio per l'escavazione del porto canale. Di questi 2 milioni e 200 mila euro sono rimaste pochi spiccioli come suol dirsi. Queste somme che sono rimaste non basteranno nemmeno a togliere un decimo di tutto quello che si sarebbe dovuto eliminare. Io mi aspetto gente con la fascia tricolore, mi aspetto autorità per l'inaugurazione, ma li aspetto anche alla fine quando ci accorgeremo che è stata tutta una farsa, perché con i soldi che sono rimasti c'è poco da scavare. Sittin' in the morning sun I'll be sittin' when they eat the car Watching the ships roll in Then I'll watch them roll away I'll be sittin' when they can't get I'm sittin' on the dock of the bay Watching the time roll away Ooh, I'll be sittin' when they're dark Subаксим VAN PAGE Cheopi E' da' 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 da'